Ciao ragazzini, buonasera e tanta pace! Bene, oggi è arrivato il giorno che abbiamo fatto il salto di qualità. Praticamente siamo passati da una compagnia telefonica con DSL ad un'altra. Beh, che dirvi? Quella che navica in fibra ottica chi è? La velocità è in maniera... Ma guarda, guarda ragazzi! Annaggia, ma che zampata che dai! Ma che cosa fai? Beh, andavamo ad una velocità di 5... Cosa è la caricamento upload? Non mi ricordo... Ah, un 19.82... Come vedete, il mio computer ancora è morto... È spento... Ragazzi, sta succedendo qualcosa di magico... Allora, non so come ho fatto, ma ho fatto ripartire... Il computer... Cioè, sono entrato nel BIOS... Sta succedendo qualcosa... So che perderò già tutti i dati... Come si sta formattando il computer... Starting Windows... È un momento prezioso e magico lì... È un momento prezioso... Allora, è uscito questo qua... Microsoft Corporation... Da... È un momento di... Di... Di magia... Ok... Anche Lily è felice... Lo so Lily, lo so... Lo so... Tutto questo un giorno sanno... Oh, ammazza... Aspetta, aspetta... Oh, Lily... Allora, qua dice... Italiano... Link... Da installare... Avanti... Allora, se... Ripristina o installa? Ho messo ripristina... Ho messo ripristina... Ma non so se ho fatto una cacata... Allora... Windows... 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 Ok... Allora... Mi è riuscita la schermata di prima... Dove diceva... Italiano... Lingua italiana... Poi ho messo... Ripristino computer... E poi ho messo... E poi ho messo la trascritte... Adesso mi è riuscita... E ho messo... Installa... Windows X... Eh... Windows 7... Home... Home... Premium... Allora... Qua dice... Scegli il tipo di installazione da eseguire... Allora... Il compito è stato... Avviato... Rimuovere il disco... Allora... Rimuovere il disco di installazione... E riavviare... Cioè... Non sto capendo... Devo... Allora... Amici... Stiamo qui... E... Qua dice... Installazione di Windows... E sta installando... Qualcosa... Ragazzi... Il miracolo... È avvenuto... Windows 7... È un premium... Battete in 5... 1... 2... 3... Ok... Allora... Ho risparmiato... La bellezza di... 50 euro... Sicuramente... 50 euro... Ah... Vincenzo... Vincenzo... Vincenzo è mio cugino... Hai visto... No? Qualche giorno di tempo... Giusto per... Smanettare al computer... Trovare qualche ricerca... Che poi alla fine... Non so neanche spiegartela pure... Però ce l'ho fatta... Ho perso tutti i miei dati però... Le foto... I video... I programmi craccati... Bugia... Neanche uno ne avevo... I programmi craccati... Neanche uno... Tutti originali erano... Tornerò alla mia postazione... Da barbone... Da barbone... Barbo... Il miracolo è avvenuto... Sicuramente... Una luce da dietro di me... Uscirà... Ok... Ok... Grazie... Grazie... Bene ragazzi... Sono riuscito a farlo partire... Aspetta... Sempre... No 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 no... Aspettate... Allora... Dicevo... Sono riuscito a farlo partire... Vediamo adesso... Vediamo... Vediamo... Ok... Avvio di Windows... Praticamente tutto il video è basato sul computer... Aspetta... 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 Che riesca il video... Ecco qui... E' uscito... Ce l'ho fatta... Ce l'ho fatta... Bene ragazzi... Grazie, grazie... Il video di oggi finisce qui... Vedete un mi piace... Commentate... Iscrivetevi al canale... Dite la vostra su... Ricordate il computer... E buonanotte... Ciao...